Un accordo importante perché l'accordo fra Coppe e AZ porta Coppe in carattere Calabria, è l'accordo fra due soggetti molto seri e affidabili che hanno anche dei valori comuni e quindi non è semplicemente un accordo commerciale, siamo trovati con AZ, con i fratelli Noto e abbiamo condiviso soprattutto un impianto valoriale, il commercio e gli accordi commerciali vengono un metro dopo degli aspetti di valore. Grazie a tutti! Stiamo parlando di una cooperativa, di un marchio, di un brand italiano di assoluto livello, di primo livello nella grande distribuzione per iper, per i supermercati. Averlo in Calabria è un gran van, soprattutto con l'accordo fatto con la famiglia Noto e con la famiglia Z che già di per sé è una garanzia, quindi sono due garanzie che si uniscono ed è un valore anche aggiunto soprattutto per i produttori calabresi perché possono far conoscere le proprie primizie, i propri prodotti proprio all'interno del gruppo Coppe, quindi è fondamentale. I due mondi, il mondo AZ e il mondo Coppe, diciamo hanno trovato questa firma oggi perché alla base di tutto c'erano dei valori comuni. come ha visto prima tra le slide, la Coppe è il primo retail in Italia, è il primo retail in Italia italiano, quindi con una differenza anche di svariati punti, ha visto che la quota di mercato è circa il 19,7% rispetto ad altri gruppi presenti in Calabria che sono molto molto inferiori. Questo si traduce in una forza di acquisto migliore e più competitiva che trasferiamo tutta ai consumatori. Grazie.